Castiglion Fiorentino e Norcia unite dal filo della solidarietà. Potremmo riassumere così l'iniziativa che il prossimo 19 dicembre vedrà una delegazione dell'amministrazione castiglionese far visita al comune della Valnerina duramente colpito dal sisma dello scorso ottobre. L'obiettivo porta con sé il marchio della beneficenza poiché i rappresentanti della città del Cassero consegneranno nelle mani del sindaco di Norcia il ricavato di alcune iniziative di solidarietà organizzate nel territorio castiglionese. Un appuntamento che sarà preceduto dalla tradizionale cena di beneficenza che si svolgerà sabato 17 dicembre nei locali della polisportiva Montecchio Vesponi. Circa un migliaio di persone si riuniscono per raccogliere da questa cena fondi che vanno proprio al nostro volontariato. Arriveremo poi con una prova tangibile il 19 di dicembre a Norcia per consegnare ciò che la comunità ha raccolto da destinare al comune di Norcia per tutto quello che quella realtà e quella comunità deve fare e dei quali c'è ancora da prendere tanti esempi visto che nonostante queste catastrofi naturali hanno avuto sempre la forza di rialzarsi e di ripartire. Quindi noi cerchiamo di fare qualcosa a loro per loro ma questa comunità sono sicuro che darà qualcosa anche a noi in cambio ovvero questa forza che sanno sprigionare nei momenti di maggiore difficoltà.